si allora intanto deve essere più reattiva perché non mi pugna la mano guarda come il sole è tutta nascita tutta disegno ma lo vedo vai 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 vabbè vabbè mi fai fatto malissimo che cazzo fai oh rivesti vero sono scemi sono tutti scemi si chiama snap ragazzi ti prendi quando facciamo queste cose dai muoviti è bello facciamo il backstage forte dai dai feto dai salutate dai dai il mio effetto bucchè dai minchia dai dai fai da nico dai dai bacio 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 spruzzo facebook smettila vai vai azione non devo dare no spruzzo facebook fai da nico fai da nico fai da nico che fai da nico volevo vai vai mi sono dovuta liberare le pts buona 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 mi si te lo faccio col mio tempo no no va bene azione come hai chiamato mia madre dai non mi fai ridere per te la concentrazione azione ma la vuoi ma la vuoi ho preso la concentrazione la vuoi smettere dai fai venii e pure ce la bevo un po' di intensi sguardi ho azzazzato il gesto inconsueto vai forza allora sono qui da 72 ore smettila non mi fai ridere e il sultano mi è subito inolata scherzavo e il sultano che ha fatto e l'insultano sentite dell'erlano ho azzazzato fermo fermo non camminare vieni qua fa una cosa falla andare in contro campo a lei quindi ti giri dietro di lei e a me mi prendi eh ma vedo tutto tutto tu lo scrivi allora poi giro così eh ma forse lo posso girare? vieni qua no no giri così vabbè no vabbè falla come la stai facendo però allora giri prima così un po' più dal basso giri prima così poi mi riprendi a me ok da federico e action è stato lì che mi sono fatta notare dopo uno scambio di sguardi ho aggiornato un gesto incontruato e il sultano ha apprezzato la mia audacia ed è lì che mi ha invitato a bere qualcosa di nuovo stai fermo 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 si vede i copriani per calci eh eh scorgiasi fermo dai dai a cazzo paura stai riprendendo? si e sulta a cazzo paura dai 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 ti muovi ma cazzo dove andai via? non so come avevo le zone di via una propria forse così andiamo a mettere minchia vero ti devi stare sempre ti devi stare sempre ok ti starò sempre ciao comunque sono qui per aiutarti a portare a termine la tua missione ahahah ahahah vergogna ahahah ahahah chi è? chi è? si si il microfono era aperto? si ancora le quattro io me le faccio così oddio vedo una luce mi piace non me le faccio così oh signor fai 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 è il dopo sei si per il si non non vi u ti mi ti 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 Grazie a tutti.